Biancaneve e i sette nani C'era una volta una bella principessa di nome Biancaneve. Aveva i capelli neri come l'emano, la bocca rossa come una rosa e la carnagione bianca come la neve. La sua cattiva matrigna, la regina, possedeva uno specchio magico a cui rivolgeva sempre la stessa domanda. Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? E sempre lo specchio rispondeva, sei tu la più bella del reame. Ma la regina, temendo che un giorno la bellezza della principessa superasse la sua, vestì la piccola di stracci e la costrinse ai lavori più pesanti. Biancaneve però era sempre allegra e cresceva più graziosa che mai. Così un giorno lo specchio disse che era lei la più bella del reame. Arrabbiatissima, la regina incaricò allora un cacciatore di ucciderla. Ma l'uomo non ne ebbe il coraggio. Suggerì alla fanciulla di fuggire e non tornare mai più alla reggia. Biancaneve corse via spaventata e si rifugiò nel bosco buio. Laggiù scorse una casetta. È permesso? chiese entrando. Non c'era nessuno. I proprietari erano i sette nani del bosco. Dotto, gongolo, pisolo, eolo, brontolo, mammolo e cucciolo. Al loro ritorno rimasero meravigliati nel trovare un'estranea in casa. Sono Biancaneve, si presentò allora la principessa e raccontò la sua triste storia. I nanetti commossi li invitarono a rimanere a vivere con loro. La fanciulla accettò felice. Ma la regina scoprì che era ancora viva. Grazie a un filtro magico si trasformò in una strega e avveleonò una mela. Poi si recò nel bosco e fingendosi una mendicante offrì a Biancaneve la mela stregata. Coraggio, dalle un morso! Non appena la fanciulla l'ebbe assaggiata, per incantesimo cadde in un sonno profondo. Intanto gli animali del bosco erano corsi ad avvertire i nani. «Eccola là!» esclamarono vedendo la strega che si allontanava veloce. Mentre la inseguivano scoppiò un terribile temporale. La malvagia regina si arrampicò fin sulla cima di un profondo burrone. Proprio allora un fulmine la fece precipitare dalla roccia. I nani decisero di costruire un'urna di cristallo e oro, dove deposero Biancaneve, finché un giorno passò di là un principe, che rimase incantato dalla bellezza della giovane. Sceso da cavallo la baciò. Quel bacio ruppe l'incantesimo e Biancaneve si svegliò. Che gioia per tutti! Biancaneve e il principe si sposarono e vissero sempre felici e contenti. Fine